Aspetta, motore, partito Data 15 marzo, scena 1, Ciac 1, Sergio e Valentino Silenzio, azione Quando è che arriva il ragazzo? Mi ha chiamato, mi ha detto che ci vediamo qua Dove? Qua? No, viene secondo me E chi ti ha detto? Stai parlando di un altro ragazzo No, non ho chiamato ancora Va bene Allora, chiamala, provo a chiamala Vabbè, vediamo, se arriva, arriva Se no, la chiamiamo dopo Non lo so, non l'ho chiamata ancora Credo che la porterò ad uscire da qualche parte Vediamo adesso Non sono sicuro, però Da un preventimento E poi depure le presentiment Non c'è un buon preventimento Non c'è un buon prezentimento Perché? Non ? Stai spiegato Spai senti Fai senti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti